Quali sono le tre richieste alla politica per il settore edile? Sono delle proposte in cui la regione deve dare una strategia per il settore delle costruzioni. Primo è quello di creare un tavolo di emergenza con tutti gli enti appaltanti, se stessa, gli enti locali, per recuperare in qualche settimana tutte le opere che si possono metterci in colazione. Parlo da interventi di recupero urbano, colazione urbana, messa in nome di scolastica, edifici pubblici, e tutti individuare i lavori già pronti, che hanno appaltati, finanziati, pronti a partire, anche quelli privati, penso ai ricassificatori e al PUA di Catania, per fare in modo che si metta in modo di economia in qualche mese, esistere il settore di edilizia. Secondo aspetto, avanzare la progettazione esecutiva delle opere già progettate e programmate, a cui collegare i fondi europei, la rimodulazione per fare le gare il prima possibile. Terzo aspetto che noi proponiamo è quello sulla legalità. Bisogna fare, come ha chiesto la Questura, la magistratura di Chitrape, la settimana scorsa, che tutti i commettenti siano vincolati alla Regione e vincolare a se stessa i controlli in corso d'opera di qualità, legalità e trasparenza.